E' il valore! Un tracca tracca! Ciao abbracatori! Oggi ragazzi siamo qua perché festeggiamo I 100 iscritti! I 100 iscritti al canale, un applauso! Poche aspettative si espande, anzi abbiamo anche superato i 150 Poi vi metterò qua a quanto siamo arrivati E oggi? Chi ha visto il video precedente sa che cosa stiamo per spacchettare Perché? Perché c'era il 3x2 Ah perché c'è prima il video tuo Ah è vero perché Federina è andata in giro a cercare questo 3x2 Che c'era! C'era! Quindi chiedete da Toys il 3x2 E per festeggiare Non c'era Buzz Lightyear E quindi per festeggiare oggi apriremo Uno degli ETB che abbiamo preso con il 3x2 Sìììì! Noi siamo alla ricerca di Che cerchiamo? Che cerchiamo? Eeeh... Non sai cosa Lo dico io Palsia! Palsia! Per mamma che cazzo devo prendere? Eh? Per mamma! Miu che dorme per mamma E poi ci manca Lifeon e Suicun Quelle un po' più costose e qualche allenatore che costa un pochettino Quindi ragazzi speriamo questo 3x2 Miu che dorme E' buon per due Si arrivò la Squisho E soprattutto io ci tengo a dire una cosa Sarà vero perché noi abbiamo questo dubbio che le ristampe pullano di meno? Eh? Perché ci è venuto il dubbio Anche se non abbiamo alcuna prova Ci è venuto il dubbio che i primi set allenatore fossero un pochino più sciotti Per invogliarti all'acquisto Adesso Pacchetto Pacchetto Il box del set allenatore già lo conoscete quindi passiamo alla sostanza Allora una cosa che sono curioso di vedere La centratura della promo Perché la promo è sempre in scoppa E anche questa qua mi sembra bella Stortignacola Passiamo ai pacchetti Prendiamo i pacchetti E poi ci siamo scordati di dire Che abbiamo deciso che per festeggiare i centi iscritti faremo un giveaway Visto che non sappiamo come spedirvi le cose Abbiamo deciso di regalarvi dei codici del gioco online A chi commenterà e metterà mi piace E cosa dovete fare per questo giveaway? Eh commentare e mettere mi piace E dovete iscrivervi Ah anche iscrivervi Ecco E in privato vi daremo i codici Bravissimo E dove ti devono scrivere in privato? Su Instagram LostinFamily Perché non lo sanno come ci chiamiamo Eh no su Instagram ci chiamiamo Cioè non è che ci conoscono tutti questi dei Pokémon Ma capito? C'è altra gente Cercate LostinFamily su Instagram E siamo noi Cioè è il nostro primo canale Vi iscrivete a LostinFamily Ci seguite su Instagram E ci scrivete in privato Ragazzi sono qui per il giveaway I codici Poche aspettative Facciamo vedere tutti e dieci i pacchetti Anzi Tommy Scegli il pacchetto Il primo Iniziamo con il primo pacchetto Ah papà C'è il mio tu C'è il mio tu C'è il mio tu C'è il mio tu per mamma Oh dio Vai gira qua L'Iron Trolli di salvataggio Carnivine Energy Taito Ah l'Incaroc Oh la tiscia reverse No l'abbiamo trovata La tiscia reverse Vabbè dai Il primo pacchetto è dei bolletti si sa Adesso uno lo scegli tu per mamma Pacchetto di mamma Non grattaccia mamma Non grattaccia Energy Caramella rara Duskos Cambio di energia Cricutop Cheeks Mr Mindy Galar Suncern Coffee Ce l'avviciniamo No Arunt Mi sa che ci manca Ce l'abbiamo No reverse Ce l'abbiamo Vabbè E Tapulele Ce l'abbiamo Vabbè adesso tocca a papà Scegliene uno per papà Ok Questo per papà Aspetta il tuo Vabbè Allora primo Tommy Te l'apro io o papà Di chi sei tu? Di papà Oddio lo di papà Allora trova me sto mio tutto Un tre Pronto Papà Mi sei tu Per papà Amo pastore una cosa Non sta a portare bene Girafarig Ultrabolla Electric Oddio Oh Dandel Olo E chi manca E vai Regisicas Che bella Questa ce l'abbiamo L'avevo detto che gratta Ce l'abbiamo ma è una bellissima carta E la possiamo scambiare molto facilmente Secondo me L'avevo detto che gratta Bella pullata ma purtroppo mi sono scordato le foderine Quindi La metteremo qua senza foderina Rischieremo Adesso tocca a papà Con il suo pacchetto scelto da Tocco E poi tocca a me Codice viastro qua Di solito Vuoti Sono vuoti Oh oh Ho visto qualcosa di nero Vediamo Codice viastro Pinciurcine Trolli di salvataggio B-Sharp Rockroof Aaron Riolu Starly Sighter Charja L'autobus E Che bella Che bella Che abbiamo anche lei Ma io ce l'ho Nella mia collezione No tu no Questa quindi è tua Davvero me la dai? Sì Grazie Apre Totto adesso Totto però scalda la mano eh Vai Volevo dire anche una cosa Che Tommaso qualche giorno fa In una scatola di reggigliechi Ha trovato due pikachu segreti Ve lo giuro ragazzi È stata una cosa assurda No dai Ha trovato due pikachu Nello stesso box Luzio Solrock Lunatone Energy Snorlax Snorlax A te piace tanto Vero? Ditto reverse Che l'avevamo già trovato L'avevamo già trovato È molto bello A chi tocca? A mamma Ma lei guarda sempre Non si fa così Non devi guardare Lei sbircia Prima se brilla Se non brilla Gratta a te No mamma Non gratta a te Energia Un'arivezzo 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 Amore sicuramente Luzio Aspiratore Snorunt Larvesta Tangela Baltoi Baltoi Meo di Galar Cricketot Ce l'abbiamo pure doppione E scisor Boco Ultimi quattro pacchetti Gratta Gratta Amici ai sui Scemi 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 Ultimi tre pacchetti Uno a testa Ce la faranno i nostri eroi A trovare Una bella carta Però quello che dico È che è un po' vuoto Energia Acchiappa Potemont Salazle Taramella rara Baltoi Meo di Galar Recupero di energia Ponyard Weilmer Perselec di Galar E Zerahora Il mio Era vuoto Male ragazzi Dobbiamo ritirarci un po' su Il morale con I prossimi due pacchetti Speriamo bene Ma non le neanche sentite Quale gratta Crocorock Vai Vai to Scambio di energia Dusclops Vai uniamoci Energia Pangoro Pank E l'evoluzione Ah Shinx Reverse Che già abbiamo Ragazzi noi volevamo festeggiare I cento iscritti In una maniera un po' differente Eh la pokeball Ce l'abbiamo Non sbircio L'ultima speranza è mamma fefe Energy Amici assinno Gloom Megaball Sclep Volo Che ha fatto? Elioctil Dove è Volo? Chi è? Faccia Faccia È volato È volato Vieni da Corri Scambio di energia Dan Sparse Che già abbiamo E Chioli Che già abbiamo Va bene dai Si chiude con un minimo di pool Questo è TB Molto Vuoto Vuoto Non ce l'abbiamo un altro? Ecco le qua Le nostre pool di questo è TB A parte Regigigas Che forse sarà 15-20 euro Il resto Non benissimo Posso dire una cosa? Dici Ovo Non aggiungeremo niente alla collezione Niente Alla nostra collezione Ce l'abbiamo tutte Quindi pochi allenatori Noi vi ringraziamo per questo grande traguardo di questo canale Che è agli inizi E soprattutto perché ha poche aspettative questo canale Quindi mi raccomando Poche aspettative E avete visto? La teoria che le ristampe sono un po' vuote Ragazzi è vera Almeno per la nostra esperienza Iscrivetevi mi raccomando E ci vediamo al prossimo video spacchettamento Perché A noi piace spacchettare E dobbiamo trovare Palchia Palchia ragazzi E meo che dorme Miù che dorme Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao porcattori Non so che non si chiede Vulo Vado a cercare Vulo Lui va a cercare Vulo Abbiamo ritrovato Vulo